Si inserisce Adli, si inserisce Teo, 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 attenzione a non finire in fuorigioco, Semi Ciuquese, Semi Ciuquese, c'è il tocco con il braccio, calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore. La parata Köbel, la parata Köbel, avanza ancora il Borussia Dortmund, Malen segue l'azione, Bino e Gittens contro Cala Calabria e c'è calcio di rigore per il Borussia Dortmund. Cala Calabria commette fallo e loro fanno gol. Noi non abbiamo trasformato il rigore, loro sì, questo fa tutta la differenza del mondo. Dai Semi, dai, eccolo Semi che prova ad andare, Semi, 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 gol, meraviglioso, ci siamo arrabbiati, Semi su Ciuquese, il Leo di destra, Semi, 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 Semi. Ancora il Borussia Dortmund, andiamo Adeyemi, seguito da Adli, tiene palla il Borussia, ancora, è il gol, il gol di Bino e Gittens. Poi ancora Adeyemi, 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 limite dell'area, il tiro, la parata di Mignan. E c'è il gol ancora del Borussia Dortmund, non è riuscito a salvare Mike.